Roma incontra protagonisti e fatti della grande attualità un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, buonasera, grazie, ben trovati benvenuti all'ultima puntata del 2019 di Roma incontra la 195esima dal 2011 quando abbiamo iniziato con quelli di stasera salgono a 763 gli ospiti che sono saliti sul palco a 515 libri presentati, a oltre 25.000 gli spettatori in sala e oltre 8.000 le ore di programmazione televisiva un consuntivo gratificante che ci sprona ad andare avanti il mio grazie va agli sponsor, agli emittenti televisivi che ci mandano in onda ai tecnici, ai miei collaboratori, a Palazzo Santa Chiara che ci ospite e a tutti voi qui in teatro e a casa ma è tempo di consuntivi anche per quanto riguarda l'Italia purtroppo abbiamo buttato via un altro anno in economia come in politica che si aggiunge ai tanti sprecati tempo di lapidato che ci inchioda ad un presente deludente che ci allontana da un futuro che continua a farci paura gli italiani sono delusi, spaventati, ansiosi, prede dell'incertezza, rancorosi vittime dell'idea infondata che siamo diventati tutti più poveri e di quella fondata che l'ascensore sociale si è fermato e che i figli staranno peggio dei padri è per questo, ci dice il Censis, che la metà di loro invoca l'uomo forte cui dare pieni poteri che sisteme le cose alla Putin o alla Erdogan naturalmente pensando che siano sempre gli altri a dovre essere messi in riga per ora, non essendoci figure così, ma solo macchiette ecco che ci siamo fatti andare bene i surrogati l'imprenditore che ha fatto i soldi, il partito del saltimbanco pieno di ignoranti e incompetenti il populista ex-eccessionista è diventato nazionalista e una sinistra sempre meno rappresentativa dei suoi ceti sociali capace di essere solo contro adesso tocca le sardine, domani chissà leadership che evaporano, partiti personali che nascono e muoiono a furia di vaffa la volatilità politica è altissima perché c'è sempre qualcuno che urla più forte di quello che sbraitando ha conquistato il potere prima in questa situazione ci vorrebbero capacità di analisi serie, culture politiche vere insomma ci vorrebbero gli intellettuali noi stasera per degnamente concludere la nostra stagione di Roma incontra ne abbiamo chiamati due uno è un sociologo, professore in merito di sociologia del lavoro La Sapienza di Roma ed è autore per Enaudi di un libro che si chiama Roma 2030 il destino della capitale nel prossimo futuro Domenico De Masi è docente di filosofia della scienza all'università di Milano autore di due libri uno per Mondadori che si chiama La danza della parola l'ironia come arma civile per combattere schemi e dogmatismi e il secondo per il mulino si chiama Errore scritto con Pino Donghi è Giulio Giorello benvenuto grazie accomodo allora carissimi Giulio Giorello tu e il tuo libro La danza della parola spieghi come usare l'ironia per difenderci dagli schemi contemporanei tra questi schemi c'è anche quello secondo te che siamo diventati tutti più poveri che questo paese è bisogno di un di un uomo forte con i poteri pieni poteri che ci sistemi le cose c'è anche questo schema che tu combatti con l'ironia o no? ma io questa storia dell'uomo forte proprio non la capisco o nello senso la capisco anche troppo per certi aspetti di merce corrente della politica ma la ritengo una pseudo soluzione cioè un modo per non affrontare neanche uno dei problemi seri del nostro paese e tu pensi che l'ironia invece sia una buona arma ma se fatto 100 il dosaggio di ironia che ci vorrebbe in una società noi in Italia quanta ne abbiamo di quel 100? tu mi dici quanta ne abbiamo o quanta ne vorremmo? no no quanta ne abbiamo poca poca piuttosto poca vedo che troppa gente si prende continuamente tra virgolette sul serio chi usa le virgolette pur non essendo seria eh? pur non essendo seria si prende sul serio non essendo seria questo è il problema questo è il problema sì senti De Masi ma l'Italia sei imbarbarita? no intanto voglio dire questo non tutti si sono impoveriti eh i 6 milioni negli ultimi tutti credono di essersi impoveriti no no sì quello è un gioco il ricco che finge di impoverirsi se non vuole fregare il povero eh i 6 milioni di italiani più ricchi eh hanno visto in questi ultimi 10 anni aumentare la loro ricchezza del 73% i 6 milioni di italiani più poveri hanno visto aumentare la loro povertà del 63% e quelli che stanno in mezzo e la classe media ha visto ridursi la sua ricchezza del 15% quindi non tutti si sono impoveriti una parte si è arricchita sulla povertà altrui eh sempre dieci anni fa le dieci famiglie più ricche d'Italia avevano la ricchezza pari a quella di 3 milioni e mezzo di poveri oggi hanno le stesse dieci famiglie hanno la ricchezza di 6 milioni di poveri quindi hanno raddoppiato la loro ricchezza e contemporaneamente è raddoppiata la povertà dei poveri ma perché il censis ci dice che siamo tutti più cattivi incazzati arrabbiati ma il censis è come l'osservatore romano cioè dice le cose quando proprio cani e porci ormai l'hanno già accertata adesso non polemizzare con i tuoi colleghi sociologi no 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 è ovvio quello che dice ogni volta è di una ovvietà straordinaria per esempio che si fa la fotografia che ci siamo appunto che ci siamo ma siccome siamo i fotografati sappiamo anche noi chi siamo e fa la fotografia del paese che è incattivito perché si è convinto che è povero e si è convinto che siamo immarsi dagli emigrati e che tutti i criminali sono emigrati che aumenteranno gli emigrati e quindi aumenteranno i criminali basta dire delle balle e basta che la gente ci creda a me pare strano che ci creda la classe media questo è strano perché fin quando ci crede la parte più sguarnita meno istruita eccetera ma quando ci crede di più d'altra parte però se uno guarda Weimar a Weimar fu proprio la classe media che credette a Hitler questi poi sono Hitler di Quartorti ma chiede come dei surrogati senti ma ma tu senti che siamo come nella Repubblica di Weimar? no io direi di no nel senso che questa è una paura che può venire e che può essere anche comprensibile ma non credo la storia non si ripete ma è uguale si sono componenti che riemergono ma secondo me se si mantiene una visione abbastanza fredda e non emotiva della nostra situazione non è così insomma non siamo alla vigilia di un nuovo fenomeno che potrebbe riproporre qualcosa di simile al nazionalsocialismo però ci sono degli elementi preoccupanti questo si di regressione nella cultura del nostro paese nel modo di parlare nel modo di rapportarsi gli uni agli altri la mia speranza con quel libro era che la comprensione dei nostri stessi errori e un po' di doverosa ironia potrebbero permetterci di abbassare i toni aggressivi e questo pessimismo di fondo che considero poco costruttivo cioè con la paura si può anche costruire ma si costruisce male senti ma il Waffa forse era partito anche come un elemento di ironia su quello che ci circonda poi però ha preso un'altra strada ma secondo me il Waffa nacque sull'onda di libri come La Casta per esempio che infatti lo precedono di un anno anno e mezzo in cui praticamente sotto un'unica etichetta appunto della Casta si diceva che tutto ciò che era classe dirigente era sbagliato era ladro e così di sé insomma come dire che qui in questa strada siamo tutti ladri sulla base di questo nasce il Waffa che è simile alle attuali sardine con una differenza che le sardine sono praticamente di sinistra quindi hanno una qualche idea di società che vogliono costruire mentre secondo me vaga c'è come tutti i movimenti poi si va man mano chiarendo le idee che i movimenti hanno noi abbiamo avuto in Italia un grandissimo studioso dei movimenti Michels ha il nome inglese ma era italiano ha sposato la figlia di Einaudi quindi Michels studia proprio in un libro fondamentale Sociologia dei partiti politici studia il fatto che tutti i partiti cominciano come movimenti poi alcuni movimenti riescono a solidificarsi a darsi una struttura a darsi un pensiero compiuto e altri invece muoiono lungo il percorso la parabola dei 5 stelle a che punto sta per esempio per un sociologo come me i movimenti sono rari non sono frequenti in questo momento per un sociologo un movimento è come per una cometa per gli astronomi una cosa importante in questo momento abbiamo la fortuna noi sociologi di avere un movimento in declino e un movimento allo stato nascente è una fortuna straordinaria si può analizzare proprio come sotto una lente di ingrandimento il fenomeno movimento e capire cosa succede quando un movimento perché per esempio è in declino i 5 stelle perché il passaggio da movimento a partito è un passaggio delicatissimo proprio in questo passaggio il movimento è rimasto solo perché è morto Casaleggio e Grillo si è tirato fuori non è emerso un leader carismatico come era Casaleggio e quindi questo movimento lasciato a se stesso sbanda continuamente non riesce a tenere diciamo una rotta forse perché è costretto a fare da partito ciò che aveva denunciato e denigrato da movimento e quindi entra anche in contraddizione senti Giulio ma perché tu per portare avanti le tue tesi filosofiche hai scelto personaggi come Topolino Tex Usi Viaggi di Gulliver raccontaci perché ah perché lui ama i fumetti in modo straordinario so che lui è un un fumettaro però insomma beh intanto c'è una cosa che va detta il fumetto anche il più popolare il più semplice ha una caratteristica quella di mettere insieme parola e immagine e questo dà una forza al fumetto estremamente notevole se noi andiamo a vedere il fumetto di Topolino dico quello americano degli anni 30 quello in cui Topolino giornalista sfidava i padroni della stampa o il Topolino dell'immediato secondo dopoguerra quando con l'amico Etabeta andava a mettere il naso persino nel Cremlino in una storia che si chiama Topolino il tesoro di Muc e guarda caso nel Cremlino si vedevano due orecchie di gattone pelose e poi la corporatura imponente di Pietro Gambadilegno che aveva fatto grande carriera beh qui era chiaro che il fumetto riusciva forse a unire insieme tutta una serie di sentimenti che trovavano in immagine in parole accoppiate insieme un modo molto immediato di colpire l'attenzione dei suoi lettori e di quelli che ne sfogliavano anche distrattamente le pagine quindi tu stai suggerendo ai nostri politici di leggere Topolino ma non dal parrucchiere ma diciamo guardando tra le righe insomma beh sarebbe un buon esercizio se lo facessero un buon esercizio se ci riescono perché può essere difficile Topolino per alcuni intelletti troppo abituati ad altre cose senti ma perché tu la chiami arma di costruzione di massa l'ironia cosa intendi dire perché l'ironia normalmente si dice distruttiva butta giù ma costruisce anche dei anche dei bei sogni o degli incubi dipende da come viene usata pensate a quel mago dell'ironia che era Jonathan Swift un personaggio che si sentiva ben accetto in Inghilterra poi dopo quando andava in Irlanda diceva no qui adesso sono nelle condizioni di uno che vive in una colonia e poi se la prendeva tanto con inglesi o con irlandesi scatenando la propria ironia in una maniera estremamente abile la presa in giro che Swift fa dell'insegnamento universitario e dei problemi futi a cui gli scienziati del suo tempo si dedicano è magistrale ma Swift aveva anche il coraggio di prendersi con dei grandi scienziati perché se la prendeva con Newton e con i suoi discepoli quindi con il meglio della scienza britannica dell'epoca sua senti e perché il libro errore che vi consiglio di leggere perché è veramente molto interessante io sono convinto che siamo attraversati dall'idea assurda del rischio zero del raggiungimento del rischio zero pensate al var nel calcio la metto lì tanto per dirne una cosa popolare ma nella medicina per tutto siamo ossessionati dal fatto di non sbagliare mentre invece tu sostieni questo libro che sbagliare è fondamentale perché attraverso l'errore si acquisisce si va avanti si va avanti nella scienza perché è l'altra faccia della medaglia diciamo l'errore dell'ironia a parte il fatto che le hai scritti tutti e due noi possiamo anche guardare i nostri errori con una certa autoironia e renderci conto che da questi errori continuiamo ad imparare senza diventare vittime del mito di una perfezione che se fosse applicato con coerenza ci costruirebbe un mondo totalmente invisibile non possiamo essere perfetti e viva chi ha scritto come ha fatto anni fa Rita Levi Montalcini un bel elogio dell'imperfezione tu sull'imperfezione chiamiamola così hai scritto il libro perché l'hai fatto su Roma alla faccia dell'imperfezione più imperfetta di Roma però tu ci metti dentro una grande speranza butti il cuore fino al 2030 io ho voluto vedere il futuro perché insomma delle buche ormai sappiamo tutto e mi sono reso conto di un paio di cose uno che entro il 2030 ci saranno 600 città almeno con più di un milione di abitanti a livello mondo a livello mondo nel 1901 erano 12 le città con più di un milione di abitanti questo significa che la concorrenza tra le città diventa straordinaria la seconda cosa è che di queste 600 città non più di una quarantina saranno quelle che noi in sociologia chiamiamo città mondo cioè città con una estensione dell'influenza a livello planetario Roma per esempio ha in sé una città piccolissima la più piccola del mondo meno di 800 abitanti che ha un'estensione planetaria ed è la città del Vaticano un miliardo e 400 milioni di cattolici tu qui parli di influenza di capacità per esempio San Francisco è una città poco più grande di Firenze ma ha un'influenza planetaria perché ha avuto la fortuna di avere Silicon Valley a un certo punto oppure Las Vegas è una città planetaria nel mondo dei giochi allora i problemi sono due per Roma uno di risalire la corrente della cattiva nomea che ha ora spiego perché e due è quella di avere un'idea di cosa essere nel mondo la seconda è la cosa più difficile e allo stato attuale non c'è cioè mentre Milano ha una sua idea del suo futuro perché nella società postindustriale bisogna programmare il proprio futuro altrimenti altri lo progettano per noi e l'altro aspetto invece è la cattiva la cattiva nomea che è meritato o no? di Roma e guarda io ti leggo un po' è interessante questo per per il non è che leggo tutti i 15 pagine ma guarda guarda qui 1751 il testo più importante di quell'anno fu il primo volume dell'Encyclopedia di Diderot e d'Alambea allora otto volumi strepitose guardate alla lettera R Roma come inizia la lettera R risulta dal calcolo che Roma è 6 volte meno popolata di Parigi e 7 volte meno di Londra e questo era vero allora ha la metà degli abitanti di Amsterdam dalla quale è ancora più lontana per quanto riguarda la ricchezza non ha marina cioè non ha porto non ha manifattura né traffici i palazzi tanto vantati non sono tutti ugualmente belli perché tenuti molto male la maggior parte delle abitazioni private è miserabile il selciato cioè le buche il selciato è cattivo le strade sono sudice e strette e non sono spazzate se non dalla pioggia che vi cade di rado perché a Roma piove poi arriva 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 nell'86 e scrive come sapete viene dal nord arriva a Roma va a Napoli va a Palermo risale a Roma a Napoli poi si ferma a Roma per un anno si può visitare la sua casa via del Corso l'ultimo giorno nel suo diario lui apprezza molto Roma per le insomma per le vestigia romane scrive questo del popolo di Roma cioè sta parlando di noi del popolo di Roma non saprei dire se non che è un popolo allo stato di natura e che pur vivendo in mezzo alla magnificenza e alla maestà della religione e delle arti non è dissimile d'un capello da quel che sarebbe se vivesse nelle caverne e nelle selve poi arriva Vittorio Alfieri qualche anno dopo e scrive Roma sentite qui sembra di sentire gli amici a tavola la sera quando si cena Roma ogni lustro cangiar vede ma in peggio e poi non andano avanti che ci suicidiamo tutti ne leggo altre ne leggo altre due arriva Stendhal e scrive scrive una cosa strepitosa dal punto di vista di acume sociologico questo soggiorno a Roma tende a infiacchire lo spirito a gettarlo in una sorta di stupore se dite mai uno sforzo mai un po' d'energia niente che vada di fretta poi per arrivare subito a noi nel 75 Bonpiani imita dieci grandi scrittori c'è Montale c'è Moravia eccetera a scrivere di Roma 75 quindi siamo parecchi anni fa sentite cosa scrive da Ciamaraidi non credo di poter dire niente di originale sulle ragioni sociali e politiche che hanno reso Roma quella città brutta e sgangherata e inefficiente che è oggi negli stessi giorni l'allora l'allora editorialista del Corriere della Sera e anche ex direttore del Corriere della Sera Gaetano Feltra intitola un articolo sul Corriere della Sera con il giornale Paludato lo intitola Roma è un troiaio quindi come vedete aspetta che sentiamo se Giorello si vuole aggiungere quegli intellettuali lì con un suo vuoi passare alla storia per un giudizio su Roma ci mancava di citare Leopardi Giacomo Leopardi a Roma ogni onesto costume è sovvertito e poi si va giù giù pesante nello zibaldone nelle lettere eccetera era perché Leopardi aveva un cattivo carattere perché si sentiva se ne è una lunga lingua mal costruito no era una convinzione la sua di carattere intellettuale basata su come vedeva Roma come una specie di palestra di servilismo certo che poi sia giusto questo giudizio si può anche contestare io credo che Roma potrebbe provarci almeno a contestare tutte queste illustri condanne e vedere cosa viene fuori non si può perché il vero problema nostro è che non abbiamo un'idea noi abbiamo dopo questo libro che cerca di capire come sarà Roma a prescindere da come la vorremmo abbiamo fatto una giornata di discussione su come vorremmo Roma è venuto pure Mattarella tra l'altro beh non vengono fuori idee cioè qui la vera deficienza sono gli intellettuali cioè l'intellettuale romano che chiamavo in causa all'inizio per il paese ci sono delle descrizioni splendide l'ultimo libro avrete fra poco l'autore qui è delizioso su Roma ma idee tali mentre Milano è in uno stato di euforia totale basta vedere andare in questi giorni a Milano e tornare a Roma è deprimente perché a Milano vedete come Parigi a proposito sono andato alla scala e devo dire che il palco reale no il palco reale no e devo dire che chi che mi ha messo sta cosa qua vietato ho visto che tu hai colto subito oggi sul Corriere della Sera l'errore fatto dalla Soprano però l'hai colto nella tua maniera cioè che anche quello è un errore a parte che in Platiano si è accorto nessuno ma poi come dire loro sono stati molto bravi a uscirne la Soprano era una cosa che può benissimo essere compiuta da una grande artista di cui era un grocchi rosa non dovrebbe nemmeno vergognarsi minimamente ma rendersi conto delle difficoltà che si incontrano che si anche quando si presenta un'opera importante e celebrata e anzi diventa uno stimolo a capire di più il testo dell'opera la musica e le parole questo secondo me è la ragione per cui non si deve crocefiggere le persone che compiono errori ma si deve imparare dagli errori questo sì e comunque il fatto che se ne siano accorti pochi ci dice che non sono solo i politici ignoranti ma anche il fiorfiore dell'intelligenza milanese anche perché in realtà sulla cosa davanti c'hai il testo scritto quindi no io volevo concludere ormai siamo al di là del nostro tempo ma in una battuta filosofia e sociologia abbiamo detto che ci che ci servono come il pane gli intellettuali e l'intelligenza c'è la possibilità di mettere insieme le intelligenze la filosofia la sociologia possiamo uscire da qua dato che l'ultima puntata dell'anno riguardiamo all'inizio di un nuovo decennio con l'idea che un po' di intellettuali si mettono al servizio per pensare che cosa deve essere non solo Roma ma l'Italia intera ma io ho cercato di farlo un poco per 26 anni abbiamo fatto un incontro molto interessante a Ravello è venuto tante volte anche Giulio proprio su questo ogni anno su un tema per tre giorni discutevamo a fondo ma il problema è molto grave oggi nel senso che la nostra società è la prima in ordine di tempo che è nata non su un disegno non su un'idea il Sacro Romano Impero nasce sulle idee del Vangelo gli stati islamici sulle idee del Corano gli stati liberali dell'Ottocento su Smith e Montesquieu eccetera questa nostra idea è nata questa nostra società è nata senza un'idea di base quindi ora bisognerebbe correre bisognerebbe correre ai ripari e bisognerebbe se non che l'unico incontro perché lo sto dicendo a tanti per esempio amici Edgar Morin Frisjof Capra eccetera mentre i ricchi diciamo si incontrano tutti gli anni a Davos e decidono e le sorti non c'è una Davos che io penso da fare negli stessi giorni e uscire proprio con un documento contrastante quello di Davos sul futuro del mondo tu ci credi all'unione degli intellettuali che forniscono qualche idea a sto benedetto al paese a cui si è spenta la luce l'unione degli intellettuali a livello quasi che si incontrano come i membri di un partito no a intellettuali coraggiosi che rivendicano il coraggio della modernità beh mi viene in mente un grande maestro di sociologia Turen che ha scritto delle pagine bellissime proprio sul fatto che non siamo in una crisi post moderna siamo in un momento di crescere iper moderno ricchissimo di occasioni poi se le perdiamo beh allora abbiamo le nostre responsabilità che saranno gravi e pesanti leggete i libri di questi due grandi intellettuali Domenico De Masi e Giulio Giorello grazie di essere stati con noi grazie a te grazie diamo una mano al picco alla pubblicità tra poco per la seconda parte di Roma Incontra bentornati a Roma Incontra è un nostro amico che torna sempre anche per scrivere molti libri di grande successo giornalista conduttore televisivo vice direttore di Rai 1 ha scritto per Rai Libri Sarò Franco manuale di sopravvivenza civile tra disincanto e speranza Franco Di Mare buonasera Sergio ciao ciao buonasera buonasera allora che Italia viene fuori da questo tuo libro visto che abbiamo cominciato a parlare di Italia prima ti ascoltavo da dietro il quinto viene fuori in Italia ha ragione il professor De Masi che il census in realtà fotografa quello che noi già vediamo e il census ha ripetuto per il secondo anno di fila l'idea che siamo un paese sfibrato rancoroso incarognito forse impoverito di sicuro impoverito nelle fasce più deboli della popolazione però a me veniva in mente una relazione del census di qualche anno fa di una decina di anni fa quando abbiamo cominciato a infilarci nella crisi nel 2008 il cui titolo quel rapporto fu curato da Giuseppe De Rita che è il presidente del census il cui titolo era gli italiani non cantano più non cantano più non cantano più ed era vero cioè nel senso che io mi sono ricordato siamo diventati afoni no l'afonia diciamo così è dovuta è dovuta alla paura io ricordo che mio padre noi avevamo una famiglia operaia un paio di scarpe d'estate un paio di inverno mio padre il cannottiera lo ricordo in bagno che si faceva la barba e fischiettava ora Enrico cosa avesse da fischiettare lo sapeva solo lui perché noi andavamo avanti con le gambiali avevamo comprato il frigorifero nuovo ma l'abbiamo finito di scontarlo due anni dopo ma aveva la speranza forse esatto era quello che c'era lui fischiettava perché non poteva tutto il futuro non poteva essere peggiore del passato anzi c'erano soltanto margini di miglioramento tutto era migliorabile bisognava vedere in che scala era migliorabile ma tutto sarebbe stato meglio di quello che era stato il giorno precedente era la speranza che lo alimentava e animava quei fischiettio che io ricordo ancora oggi adesso noi abbiamo tre di tutto non siamo poveri a ragione non siamo in avvenire le fasce più poveri della società a ragione dei masi ma ci manca l'idea del domani ci manca la speranza la censura sociale si è bloccato chi era povero è ancora più povero di prima i pochi ricchi sono normalmente più ricchi di prima la fascia media che è il grosso della popolazione nazionale si è impoverita senti è anche invecchiato perché siamo una società la più vecchia del mondo insieme con i giapponesi che è una buona notizia bisogna vedere come ci si arriva poi alla fine si no no è una buona notizia dal punto di vista diciamo dell'allungamento della vita e certamente le società che hanno una quantità di giovani più significativa della nostra hanno più sprint senti però nel libro mi ha colpito che ci sono alcuni argomenti che affronti in modo particolare per esempio chi è il dottor Google? facci caso io faccio un programma ho fatto per anni un programma che era uno mattina dove diciamo davamo un po' di strumenti la cassetta degli attrezzi e la giornata e uno spazio ricorrente era lo spazio della medicina proprio perché siamo una popolazione che invecchia e l'età media maschile è di 81 anni è qualcosa l'età femminile facevate con colezza Mirabella no Mirabella ma Mirabella è il dottore Onori Scausa tra poco lo vedrete se avete qualche doloretto chiedete a lui che saprà cosa consigliarvi adesso apriamo un botteghino saprà cosa consigliarvi per il meglio il dottor Google è quello a cui ci rivolgiamo cioè è la rete alla quale ci rivolgiamo per assumere informazioni di tipo scientifico il problema qual è? il problema è che in rete c'è qualunque cosa c'è anche Panzironi che è uno che vende acqua fresca dicendo che sono medicine che possono curare qualunque cosa dal callo alla diabete ora non è così non è vero è vero invece come diceva Umberto Eco che nella rete non si distingue un premio Nobel da un imbecille se non abbiamo gli strumenti culturali per farlo non siamo in grado di definire chi è che ha ragione per cui le ragioni di uno pseudoscienziato equivalgono alle ragioni di uno scienziato invece dice il professor Burioni che ha scritto delle cose bellissime sull'antiscienza dice che la scienza non è democratica così come qui poi c'è il professor Giorello io mi inchino davanti alla sua conoscenza ma la scienza non è democratica 2 più 2 fa 4 punto non è secondo me non è così non è vero cioè la scienza va avanti eppure c'è chi va in televisione da sottosegretario dice chi glielo dice il punto è questo avvenne con un ex ministro della finanza e dell'economia del nostro paese che è uno che ha insegnato ad Harvard si è laureato a Cambridge insomma mentre invece il sottosegretario aveva una laurea breve in marketing e quando lui ha provato a spiegarle perché se aumenta lo spread aumentano anche i motui che paghiamo per pagare casa lei disse questo lo dice lei in realtà non lo diceva lui lo dice è una regola matematica come dire 2 più 2 lui spiegava la regola matematica lei disse questo lo dice lei se la scienza diventa un'opinione siamo finiti senti e il razzista inconsapevole vado pescando dal tuo libro delle cose il razzista inconsapevole è quello che vedete i cinesi hanno un modo di dire intelligente dicono la verità viene sempre dopo il però fateci caso noi diciamo spesso io non sono un razzista però dietro quel però c'è la verità io non sono razzista però tutti questi però questi devono rispettare però sono diversi da noi però io lo so che fanno cose che noi non faremo allora in realtà noi stiamo dicendo sono un po' razzista mettiamo quella parte iniziale della preposizione per dire dico la cosa politicamente corretta però in realtà a me questi mi stanno sulle scatole ora se noi facessimo un esperimento qui genetico e vedessimo la nostra provenienza nessuno di noi è italiano autoctono al cento per cento tutti noi siamo il frutto di una mescolanza salutare salutare perché c'è progresso in questo c'è miglioramento della specie salutare che viene da migliaia di anni io ho sangue arabo nelle vene perché sono napoletano e tutti quelli che vivono in città di mare lo sono c'è una generazione straordinaria di persone che vivono in Puglia fecondate dai normanni da Federico II che sono biondi e con gli occhi azzurri penso che io avrei pensato che eri nata a Bolzano vedete senti ma la cosa che mi ha colpito di più positivamente di tutte le tue cose è sta scomparendo l'uomo vero spiega spiega ai nostri amici cosa vuol dire l'uomo vero è l'uomo che sa non è quello che non deve chiedere ma lasciate stare quella è la pubblicità quelle sono sciocchezze sciocchezze l'uomo vero secondo me è l'uomo che riesce a mettersi in discussione riesce a capire per esempio che la violenza contro le donne non è semplicemente quella che si esercita in modo manesco l'uomo violente noi abbiamo un femminicido ogni due giorni in questo paese e tutto questo è frutto di una incultura di una cultura misogina che va avanti da millenni e non riguarda soltanto l'Italia evidentemente ma riguarda le politiche di genere mettiamolo così e se voi leggete Nietzsche Nietzsche dice ormai è noto vai dalle donne portati la frusta non dimenticare la frusta beh c'era un genio aveva questi momenti ma se voi vedete l'arte Lars amatore di Ovidio leggerete a un certo punto che lui dice che le donne in realtà amano essere violentate vi giuro che è così è scritto davvero questo le donne amano essere violentate e quando una donna dice no un maschio vero sa che in realtà quel no è un vezzo che lui la deve prendere anzi se la prende con forza come la donna gradirà ecco ora se il padre del miglior tipo di relazione sentimentale quello che ha fatto scuola nelle nostre relazioni sentimentali da lì in poi da 2000 anni in poi e io temo che dentro di noi alberghi da qualche parte nascosti in qualche angolo la nostra coscienza però se dici che è scomparso un uomo vero vuol dire che c'era l'uomo lì io mi auguro che scompai io mi auguro che appaia un uomo nuovo in grado di fare i conti con le proprie debolezze e soprattutto con i propri fantasmi ma perché hai sostituito il pollo di Trilussa con la lumaca di Trilussa perché Trilussa c'è una poesia di Trilussa che è fantastica che è la Schumachella la lumachina e che dice a un certo punto io non conosco il romanesco per cui mi guarderò bene dal citare la poesia pedisseguamente ma il senso è questo che questa lumachina che camminava su una colonna romana dei fori pure lei lasciava la sua traccia nella storia la striscia di bava ora c'è tanta gente che potrebbe fare altro nella vita piuttosto che dare lezioni di vita di politica di mondo a noi però sono tanti che forse non hanno l'attrezzatura giusta per farlo e tuttavia lo fanno e io ricordo loro che perfino la lumaca la ciumachella di trilusso pensavo di lasciare tracce ma lasciavo solo bava senti ma come mai dopo tanti romanzi anche di grande successo sei andato su un libro un saggio insomma ma sai perché in realtà io facevo una rubrica che era molto seguita che mi è lievitata tra le mani come un souffle mio malgrado che si chiamava Sarò Franco e andava in onda alle 8-10 hanno cominciato a scrivermi nella quale io in realtà mi prendevo la libertà di dire quello che pensavo io e rompevo lo schema del giornalista televisivo che non può fare non può dire mentre invece io credo che il pluralismo preveda non che io faccia l'elenco del telefono delle posizioni ma che io magari provi a riassumere e nel riassunto c'è un gesto critico c'è un'interpretazione c'è un giudizio per cui in questo riassunto io assumevo di fatto delle posizioni e allora ho pensato a dire avete capito che cosa succede qualcuno sa cos'è il mess allora provo a dirvi che cos'è il mess e prendendo per la mano chi non ha capito bene lo accompagnavo diciamo così nella disamina di un fatto un tema un accadimento di cronaca che non era molto chiaro perlomeno offrivo una prospettiva inedita diversa non ancora sperimentata non ancora vista e questo è un esercizio diciamo così di autonomia in qualche maniera me lo hanno lasciato fare è uno spazio che devo dire la lei non mi ha mai detto di no non mi ha mai messo il bastone tra le loro tranne qualcuno che a un certo punto quando io parlai del vincolo di mandato e del fatto che il vincolo di mandato è strumento di democrazia perché non è possibile che io debba votare per forza quello che dice il mio capogruppo perché se questo si sveglia la mattina e dice invadiamo la Polonia oppure facciamo le leggi razziali io devo avere come dire la possibilità di dire non sono d'accordo e qualcuno mi disse ma come mai avevo evidentemente urtato qualche nervo scoperto però molti mi hanno chiesto tanti insegnanti devo dire mi hanno chiesto di anticipare quello spazio dalle 8 meno 10 un po' prima almeno una ventina di minuti prima perché pensa che gentili nei miei confronti per ascoltarla noi facciamo tardi a scuola per cui io l'ho anticipato alle 7.33 tre minuti dopo il telegiornale breve delle 7.30 io già alle 8 meno 10 non ero in grado ma alle 7 e mezza proprio però gli insegnanti si utilizzavano questi spunti questi sassolini nello stagno della nostra perichezza intellettuale che io mi divertivo a lanciare ogni mattina e utilizzavano questi spunti per dare temi in classe o per avviare dibattiti in classe sui temi più svariati però secondo me nel libro ti sei tolto anche qualche sasso dalle scarpe è una pratica divertente e più diffusa di quanto non ha il paese non sei un po' stanco di stare alla RAI adesso ti faccio una domanda no no devo dire brutale brutale tanto Birabella non ci sente devo dire no con tutti i suoi difetti Birabella l'ama quanto me la critico quanto me l'ama quanto me con tutti i suoi difetti credo ancora che sia un baluardo di democrazia è una signora che ha bisogno come dire di qualche ritocchino però però a me a me non dispiace affatto senti tu sei stato un grande inviato sui grandi fronti della guerra ma anche dei grandi accadimenti eccetera ti mancano quei momenti di io devo dirti c'è un'età per tutto c'è stato un momento in cui ho preso coscienza del fatto che io ero vivo ed ero tornato vivo da più di una missione non perché fossi più bravo dei colleghi che non erano tornati perché hai avuto fortuna quando ti rendi conto che non la chiamai fortuna la chiamai la Tobini a furia di pescare nel cesso di palline bianche prima o poi becchi l'unica pallina nera che c'è è una questione come dire è la legge dei grandi nomi quindi dice visto che fino adesso lasciamo stare poi guarda andare in giro per certi corridoi della Rai magari incontri Luca Giurato che prova ad abbracciarti è pericoloso ha già spezzato le gambe e ha un paio di conduttrici senti ma se dovessi scegliere un luogo una fotografia un ricordo di tutti questi tuoi momenti in giro per il mondo che cosa sceglieresti? Sarajevo senza dubbio Sarajevo? Sì perché è stata una scuola una scuola straordinaria una palestra di vita e una palestra politica a Sarajevo si è sperimentata una delle più grandi bugie della storia moderna e cioè questa è una guerra di religioni non era vero niente non era vero non era vero che i musulmani di Sarajevo volessero portare la sharia nel cuore di Roma non era vero le ragazze musulmani di Sarajevo andavano in giro con la minigonna andavano nelle discoteche erano ragazze che se le avessi viste in giro per Roma non avessi capito che erano musulmani erano musulmani slavi quindi erano europei ma lo erano sempre stati per 500 anni a Sarajevo i musulmani cattolici cristiani ortodossi ed ebrei hanno convissuto pacificamente c'era una legge una regola si chiamava la regola dello shimliusm credo può darsi che sbagli la pronuncia che era kom soliuk che era una regola secondo la quale siccome era maleducato chiedere a lei di che religione se ti invitavo a casa io comunque per prevenire ogni rischio evitavo di servirti maiale perché non lo mangio negli ebrei musulmani se ero cattolico o cristiano evitavo di servirti maiale ed evitavo di cucinare le pietanze che ti servivo in piatti o stoviglie che avessero toccato maiale ed era una regola rispettata da tutti per cui tutti si sentivano sereni e nessuno viveva l'ansia di il numero di matrimoni misti a Sarajevo era elevatissimo nessuno chiedeva all'altro lo scoprivi quando andavi a fare i documenti cos'eri era stata la più grande palestra il più straordinario il più straordinario esperimento politico e sociale di convivenza che ci sia mai stato poi qualcuno gli ha detto che erano nemici hanno cominciato a crederci e si sono sparati addosso ma è stata un esempio una scuola qualcosa a cui fare riferimento senti ma diciamo secondo te oggi si fanno ancora ci sono ancora quegli inviati che rischiano la pelle come oppure si tende magari a stare chiusi in albergo e fare il risultato no ci sono sempre più purtroppo sono ragazzi molto spesso non sono neanche così attrezzati perché oggi la nostra produzione è cambiata esatto la nostra produzione è cambiata i giornalisti diciamo accreditati non vanno più in giro se non si muovono con le truppe ma muoversi con le truppe cioè essere embedded cioè essere a seguito di truppe non garantisce come dire un occhio uno sguardo critico su quello che state avendo gli eserciti vi portano dove vogliono loro non possiamo andare dove vogliamo noi se siamo a seguito di un esercito è evidente che loro hanno anche la responsabilità delle nostre vite ma è anche trattanto evidente che ci fanno vedere quello che vogliono loro mentre invece i freelance vanno un po' dappertutto così facendo però si espongono a rischi enormi molto spesso anche inutili perché non è necessario andare in prima linea per vedere la sparatoria quello è solo un dato emotivo ma non risponde a una necessità diciamo così di racconto mi serve molto di più avere un inviato in un luogo dove ci sia la sofferenza della popolazione civile perché le guerre attuali sono guerre contro le popolazioni civili non contro eserciti non si combattono gli eserciti e magari che non chieda lei cosa prova in questo momento no quello per carità però mostrarlo già quello più che sofficiente senti in conclusione siccome il sovrattitolo del tuo libro è manuale di sopravvivenza civile tra disincanto e speranza tu la speranza a quale chiodo lo attacchi? al chiodo della nostra straordinaria capacità di resilienza siamo un popolo che è uscito distrutto a pezzi da una guerra mostruosa che ha causato 60 milioni morti in Europa eravamo io ricordo c'era una strada a Napoli che la chiamavano il risanamento era una distesa di baracche Pasolini ci ha raccontato una Roma che era una baraccopoli noi in 30 anni abbiamo dato vita al miracolo italiano erano altri tempi c'erano congiunture straordinarie tu lo ricordavi nell'esordio della tua serata c'erano congiunture straordinarie ma è anche vero che noi abbiamo una formidabile capacità di rialzarsi ed andare avanti io appendo la mia speranza lì bene oltre che vederlo in televisione leggete il suo libro grazie a Franco Di Mare state con noi diamo una mano al picco alla pubblicità tra poco per la terza parte di Roma Incontra bentornati a Roma Incontra è uno scrittore controcorrente un intellettuale poliedrico opinionista critico d'arte conduttore radiofonico attore teatrale passa con la stessa disinvoltura dalla cultura classica teledurrutica il suo canale youtube che gestisce da 20 anni e ha scritto adesso un libro un romanzo in cui parla di un amore tribolato tra il pappagallo treica e rinoceronte volante mauriglio gay dichiarati è quello svitatone che ha scritto per la nave di Teseo i promessi sposini Fulvio abbate eccolo qua ciao Enrico allora intanto hai fatto girare la tomba Manzoni perché i promessi sposini che ti ha mandato un tweet dall'altra tomba Manzoni non credo diciamo così mi hai già no no ma figurati però diciamo tu mi hai presentato come uno svitato lo svitatone che è una cosa affettuosa ma è assolutamente affettuosa c'era un film con Dario Fo lo svitato insomma il primissimo Dario Fo purtroppo io mi sento tragicamente serio caro Enrico ma infatti in questo contesto qua generale che ci circonda in cui abbiamo parlato sei assolutamente serio rispetto a potrei dire delle cose terribili ad esempio che io non credo nel sentimento della speranza perché mi sembra un sentimento gassoso e quando studiavo filosofia un signore disse per spiegare diciamo la grazia nel senso della grazia ricevuta Londra 1944 piovono le V2 sulla città in casa in casa A si prega in casa B si prega pure può Dio decidere che casa B verrà colpita dalla V2 e casa A graziata e stavano sperando entrambi smantellando così l'idea impropria della speranza quindi già ne ho detta una assolutamente tragica e qui alla fine ne direi chissà quanti senti ma tu diciamo in questo libro hai dato sfogo alla tua genialità e hai usato la definizione di una favola petafisica patafisica sono andato a vedere sulla tre cani che sono ignorante scienza delle soluzioni immaginarie ma c'era una scienza delle soluzioni immaginarie assolutamente innanzitutto spiego la ragione di questo libro fra l'altro poc'anzi gli amici Mimmo De Masi e Giulio Giorello che ho conosciuto stasera cosa che mi ha reso felice accennavano all'errore e accennavano ad alcuni concetti diciamo che accennavano all'ironia se ho capito bene beh io diciamo ritenendo che questo momento storico sia abbastanza problematico ho pensato che la fantasia diciamo nel modo più semplice potesse rispondere a una serie di difficoltà io ho scritto una favola che è una parodia dei promessi sposi che si svolge in un paese minacciato da un capitano ed è dichiaratamente la favola illustrata da mia figlia tra le illustrazioni ci sta esattamente un politico dei nostri giorni che viene chiamato capitano il capitano e chissà chi è ma sono sforzato di pensarci non è che si chiama Matteo di nome questo qua non lo so questo questo non lo riammento adesso però ti dico ho cercato di rispondere salvucci salvatti qualcosa qualcosa del genere in bacionia si svolge in ogni caso questa favola in bacionia che al confine tra la sucania e la cacania dice lui questo è l'elemento diciamo prosaico però adesso spiego no 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 assolutamente vero la patafisica non è un'invenzione mia uno scrittore francese che si chiamava Alfred Jarry tra la fine dell'ottocento i primissimi del novecento mise al mondo questa scienza delle soluzioni immaginarie ed esiste un collegio di patafisica io mi freggio anche di un titolo diciamo che mi dà molto orgoglio sono comandare ski de l'orde della gran G2 e vabbè insomma questo è un dettaglio però quindi sai che Roma si direbbe si direbbe anche sti cazzi si direbbe ma tu lo stavi dicendo in un altro modo no non c'è nulla da ridere no perché tu eri diciamo più assolutorio di come ho risposto io a me stesso senti ma se al posto di Renzo e Lucia ci sono il pappagallo e il rinoceronte volante peraltro entrambi maschi quindi in questo caso è un amore rigorosamente omosessuale è un amore contrastato e poi ad esempio vabbè è inutile fare riferimenti letterari diciamo c'è uno scrittore francese che si chiama Raymond Quenot che è stato una grande figura della patafisica anche che in un suo romanzo La Domenica della Vita cambia il cognome ai personaggi a una famiglia durante tutta la durata del libro il romanzo si intitola La Domenica della Vita ecco io mi sono abbandonato a una libertà assoluta ed è la storia di un matrimonio contrastato al momento di dover trovare un titolo ho detto beh i promessi sposini ma e chi è che contrasta questo amore chi è il Don Rodrigo della situazione è un cognato il grande cognato il grande cognato ora diciamo così però tu però provo a spiegare il concetto noi tutti diciamo per assurdo odiamo coloro che verrà qui a invaderci i migranti sarebbe più diciamo elegante odiare il genere umano tutto per quale motivo noi dobbiamo pensare che i nostri cognati per il solo fatto che ci fanno d'oro di una bottiglia di fundador a Natale o del cesto debbano essere migliori diciamo di quelli che in Sicilia vengono chiamati i turchi poco importa diciamo se non lo sono ecco e quindi l'idea i cognati e spesso i nostri cognati diciamo non i nostri ovviamente sono dei mostri vogliamo per un attimo riconoscere a noi stessi di odiare in primo luogo i nostri cognati ecco odiamo i cognati ecco no senti e Don Abbondio chi è? Don Abbondio non c'è ci stanno dei bravi che stanno lì sullo sfondo con la retina in testa con la malboro in bocca che aspettano l'arrivo del sacerdote di questa storia che si chiama Don Citarda che ma questo però è secondario Don Citarda è il parroco di una chiesa di Santo Barberone Santo Barberone è una citazione di Pasolini in Accattone a un certo punto uno dei personaggi del film dice ammazza quanto era brutto quando l'hanno ripescato pareva Santo Barberone noi non sappiamo esattamente come sia fatto sto Santo Barberone forse assomiglia se mi posso permettere Mimmo citava il mio racconto il mio libro su Roma forse assomiglia a San Felice da Cantalice il santo che appare sulla facciata della straordinaria chiesa di Centocelle che è un santo colsaio che solleva le braccia al cielo e racconta il mondo contadino senti e invece la suora che lampeggia che mi ha sono figure magiche una suora lampeggiante così come una bambina che si distingue perché va a dare lo sciroppo al fenicottero salvato dal petrolio e da quella che in francese si chiama la pollution cioè l'inquinamento il brigadiere insanguinato il brigadiere insanguinato è una situazione di Buñuel in un suo straordinario film Buñuel che si intitola il fascino discreto della borghesia improvvisamente tutte le notti un certo giorno dell'anno a mezzanotte il fantasma del brigadiere insanguinato compare e tutti scappano evitando di incrociarlo quindi insomma tu sei andato a pescare qua e là si mi ho messo anche molto di mio non mi chiedi nulla sulle sardine adesso ci arriviamo ecco no no ci arriviamo perché non mi do pace sulla questione delle sardine ci arriviamo perché c'era ancora il gran duca di Ficarazzi c'è Malena Togliatti Malena Togliatti che è parente ovviamente è parente di Enzo Piscitello molti si aspettano che potesse essere parente del ma va invece è parente di Enzo Piscitello non c'è niente nessuna parentela Enzo Piscitello è stato un eroe di una non di una fiction ma di un reality si è molto distinto quindi diciamo tutto il mondo mediatico nella sua miseria nella sua fantasma smagoria io ho cercato di riassumerlo in questa storia che diciamo non può che avere non diciamolo che quale conclusione ma una conclusione edificante ovviamente cioè il grande cognato della lega della gioia sovrana vince o no? questo è rilevante dirlo però diciamo è una favola scritta in totale libertà quando dico in totale libertà citavo dei personaggi che cambiano cognome dall'inizio alla fine così come il tentativo qual è la disperazione di ogni matrimonio legata alla lista di nozze il matrimonio stesso no a parte il matrimonio stesso che tutti si precipitano per acquistare il primo il più economico dono segnato sulla lista di nozze il portagrissini di Peltro Treica e Maurilio riceveranno morti portagrissini ma si riescono a sposare nonostante sono questo non lo possiamo dire non lo possiamo dire ecco ma possiamo dire invece che a un certo punto uno verrà verranno diciamo convocati sul set di un colossal dedicato ai promessi sposi insomma e lì la storia ricomincerà da capo andiamo alle sardine eh sì dico che cavolo c'entra le sardine allora io diciamo tu mi hai giustamente descritto come un pagliaccio no 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 ma no lo dico con simpatia però la questione delle sardine è assai semplice le sardine sono un flusso d'opinione non si può chiedere loro se mai fonderanno un partito l'unica chiara cosa chiara sulle sardine che sono un movimento di autoconvocati l'unica cosa chiara è che non voterebbero né Salvini né Lameloni né Berlusconi al di là del fatto che la compagna di Berlusconi abbia detto di sentirsi anche lei infatti l'ha già messa fuori di casa a sua volta sardina ecco dopodiché a mio parere e Zangaretti lo voterebbero invece? voterebbero il meno peggio quindi o quegli altri diciamo che hanno percentuali irrisibili l'EU oppure il PD che nel frattempo dovrebbe ridefinire se stesso come forza di opposizione farsi scatoletta e incorporare le sardine no perché non può incorporare le sardine perché stiamo ragionando di di medie distanze quindi come si definirà il la vita politica da qui a dieci anni quindici anni ma tu ti senti un po' sardina? assolutamente no sia per ogni generazione io sono comunista tra virgolette ma sono ritenuto ma quante virgolette ci metti? molte virgolette ma diciamo comunemente sono ritenuto comunista e e sono ritenuto anche responsabile di un crimine inemendabile mi si associa al 68 non è vero perché generazionalmente è più facile associarmi al 77 e come tale marchiato come comunista e ho fatto delle letture che oggi nessuno avvicinerebbe mai insomma a proposito di 68 ho sentito dire che secondo te sarebbe in atto il 68 della destra in questo ti ringrazio di esserti informato sul mio conto ascolto esattamente è in atto il 68 della destra semplificando molto il 68 della sinistra cosa diceva diceva amore libero diceva classi miste diceva case scuole ospedali e divorzio ampliava i cosiddetti diritti civili e laicità l'amore libero semplificando le parole d'ordine attuali del capitano e della signora di Fratelli Italia sono Dio patria famiglia il rosario tutte cose che il 68 aveva spazzato via diciamo scegliendo il principio del piacere in luogo del principio di realtà ammesso che quelle cose possono corrispondere alla realtà da questo punto di vista ripeto io diciamo l'ho motivata un po' di più questa riflessione è in atto un 68 della destra ed era inimmaginabile perfino neanche Berlusconi avrebbe mai diciamo ammesso che noi si possa credere la rivoluzione liberale di Berlusconi propugnata e dichiarata da Silvio Nostro avrebbe mai immaginato di dire Dio patria e famiglia e rosario anche perché era un po' difficile la famiglia in particolare diciamo senti ma visto che la tua fantasia non ha limiti si potrebbe dire che la fantasia è il rimedio contro l'ottusità l'autoritarismo e tutte le cose negative che si possono descrivere nella società di oggi è una forma di consolazione di consolazione non di difesa diciamo di consolazione per quale motivo negli anni del fascismo alcuni artisti pensavo che tu la usassi come preservativo la fantasia nel senso nel senso di difenderti da no 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 io ci arrivo da quest'altra parte durante gli anni del fascismo alcuni artisti negli anni 30 quando le avanguardie diciamo si raffreddano per avanguardia intendiamo il picco massimo è un artista russo sovietico che compone un quadro quadrato bianco su sfondo bianco Malievic si chiamava e poi è costretto da Stalin quindi la questione ambivalente a ritornare a fare le faccine delle colcoziane così come il povero Shostakovich è costretto a scrivere composizioni sull'elettrificazione dell'URSS e accade che in Italia avviene un fenomeno cosiddetto del ritorno all'ordine dei valori plastici con un artista un pittore come Donghi che fa delle figure quasi metalliche bene è un momento di difficoltà storica quello e in questo momento di difficoltà storica io a un certo punto ho trovato mi sono afferrato alla fune della fantasia per per dare una risposta a me stessa anche di sopravvivenza sinceramente anche perché non spetta uno scrittore è una forma di autodifesa non spetta uno scrittore immaginare una soluzione spetta ai preti ecco se ci credono oppure agli scienziati senti ma a proposito di fenomeni artistici cosa pensi della banana appiccicata con lo scotch e di quello che se l'è andata a prendere se l'è magnata non penso nulla nel senso che dubito fortemente che la banana possa essere costata 120 mila dollari dubito fortemente ma questa mattina un signore su facebook io spero tanto che ci sia stato un pirla che gli ha dati ha incollato al muro una salamella con lo stesso scotch e ha raccolto molti like ecco è una battuta ma Cattelan l'artista che ha realizzato quell'opera ha la fortuna di essere riuscito con le sue butade una sua celebre scultura mostra il papa colpito da un meteorite Voitila e un'altra ancora Fontana faceva i tagli sulle tele bianche lui ha fatto dei tagli a forma della zeta di zorro che devo dire è un'opera che io trovo abbastanza divertente perché diciamo vira Fontana il concetto spaziale di Fontana in butade visiva a me sembra una presa per i fondeli beato lui no beato lui che quando va alle aste viene battuto con cifre straordinarie io lo invidio sinceramente dobbiamo invidiarlo il mondo è pieno di perla senti concludiamo con una notizia tu sei anche a teatro con uno spettacolo lo sono stato ah non è finito lo spettacolo lo ho finito sì con il teatro il teatro degli oggetti provo a raccontare la storia del mondo attraverso gli oggetti tu mi dirai ma di chi oggetti ma ci sei solo tu sul pago cenere ci sono io c'è un fisarmonicista che mi accompagna io esordisco ammazzando un posacenere e dico questo è un posacenere è un oggetto insignificante eppure tutti noi per secoli raggiungendo un hotel una camera d'hotel sentiamo il bisogno di rubarlo quel posacenere qualcuno mi dice non ci stanno più perché non si fuma più l'accappatoio a questo punto si ruba l'accappatoio quello lo controllano ti consiglierei di stare quindi l'oggetto più insignificante racconta il mondo la saponetta si può fare e mostro un posacenere il posacenere della città del mare 1989 Mikhail Sergeyevich Gorbachev raggiunge Parigi e gli viene chiesto da una giornalista mi perdoni presidente lei mai state in Europa? e Gorbachev dice sì sono stato alla città del mare che era un villaggio del lega delle cooperative che si trovava in Sicilia vicino a Cinisi a Terrasini dove una serie di quadri intermedi e all'epoca nel 71 Gorbachev era un dirigente di Sinferopoli fu mandato in vacanza a premio e immagino che anche lui abbia rubato il posacenere della città del mare quindi anche a teatro non fa mancare la fantasia se volete divertirmi ma nello stesso tempo anche a pensare leggete i promessi sposini una correzione sola devo permettere fermi tutti che devi dire una cosa fondamentale no non è fondamentale poc'anzi è stato citato il mio canale in rete Teledurruti non è più Teledurruti ma si chiama PAC P-A-C-K perché a un certo punto il PAC come il ghiaccio alla deriva insomma è come un pacchetto di sigarette di tanti anni fa perché a un certo punto non ne potevo più di essere assimilato a una memoria politica a una zavorra politica e quindi ho chiuso Teledurruti che faceva riferimento a un famoso anarchico degli anni 30 e ho inaugurato un nuovo canale che mi mostra libero e sereno in conclusione se ti definisco genio va bene? no stronzo grazie grazie a Fulvio Abate grazie a voi diamo una mano al P con la pubblicità tra poco per l'ultima parte di Roma in Contra state con noi bentornati a Roma in Contra è un autore conduttore televisivo che voi tutti conoscete e amate che ha due lauree onoris causa in farmacia e medicina non casualmente ha scritto per Rai Libri quando c'è la salute storie vere o supposte curiosità miti e diceria della medicina Michele Mirabella buonasera ciao accomodati naturalmente questo storie vere o supposte eh vabbè ma non è opera mia è Totò è Totò è un grande pensatore del novecento no? esatto e in un film non so quanto celebre ma la battuta è geniale lui diceva la vita è fatta di cose vere e di cose supposte le cose vere le mettiamo qua le supposte dove? la pausa lunga teatrale le supposte dove le mettiamo? finiva lì non ha mai detto una parola sconcia in vita sua mai una volga ha detto stronzo una volta ma forse nella vita privata no in un film per fare una rima l'ha fatto è appunto sì sì no e anche quando c'erano i tedeschi diceva ci si pulisca ah beh lì ma lì ci voleva no non ho ambito di intitolare il libro storie vere o supposte perché sarebbe stato troppo ma nel sottotitolo la tentazione è stata forte questo non è un libro sulla medicina né di medicina è un libro di storia sì infatti devo dire che ho appreso che alla vigilia di Waterloo Napoleone no proprio si era beccato le moroidi allora le moroidi ce le abbiamo tutti aspetta adesso proprio io per adesso io per adesso mi sento bene no vedi è una questione di terminologia ah qualcuno ce l'ha variate ah e qualcuno ce l'ha perfettamente funzionanti è un po' come la cervicale spesso se si sente lamentare la gente ho la cervicale beato te non potresti tenere la testa dritta se non l'avessi poi altro è avere la cervicalgia che vuol dire avere la cervicale malata quindi Napoleone come Murat o come tutti i suoi generali aveva le sue brave moroidi e ce l'aveva anche Wellington probabilmente Blücher i suoi antagonisti il fatto è questo che lui le aveva infiammatissime in quel momento là no le aveva in genere tant'è vero che viaggiava sempre con una scatoletta è scritto nel libro con delle sanguisughe voraci che era l'unica a parte l'oppio e l'audano erano gli unici rimedi per quel problema oltretutto lui veniva dall'esilio dell'Elba e quindi piuttosto che tornare in esilio avrebbe affrontato qualsiasi cosa e nella piana di Waterloo lui arrivò tardi arrivare tardi nella nebbia dove tutto era inconfuso e terrorizzante arrivare tardi a dare gli ordini ti ricordo essere stato Napoleone un ufficiale di artiglieria e che aveva un indubbio fascino esercitava sulle sue truppe l'assenza dal campo di battaglia fu un grande un grande danno per le truppe francesi stai dicendo che la situazione geopolitica dell'Europa sarebbe diversa se lui avesse avuto le moroide a posto il congresso di Vienna non avrebbe avuto luogo se Napoleone avesse avuto il culo sano è un paradosso però è così ma guarda che lui lo ammise tanto è vero che viaggiava con una carrozza sulla quale era montato uno strano oggetto a forma di chitarra di uso sconosciuto cito il verbale di requisizione di una villa a Napoli da parte di un ufficiale inglese che non conosceva l'uso del bidet e quindi quando dovete verbalizzare che cosa avevano requisito scrisse questa definizione ineffabile strano oggetto a forma di chitarra di uso sconosciuto in realtà era stato fabbricato questo oggetto da un orafo Catella non ha inventato niente col water d'oro ah col water esisteva già un bidet d'oro che però non è mai stato esposto nelle gallerie d'arte perché era per una funzione apriamo una piccola parentesi visto che tu sei un cultore di Totò che avrebbe detto Totò di fronte alla banana appiccicata lì ma niente di volgare sicuramente avrebbe pensato ma sai ti ha colpito questa storia della banana sì ma perché è una presa per i fondelli dai su ma pensa ma no non ci avevamo mai pensato potrebbe essere ma sei un genio sicuramente quello che ha tirato fuori tutti i soldi non ci ha pensato è un genio ma il fatto è questo lui sicuramente si è messo d'accordo con il il mangiatore di banana che è un un artista non altrettanto fortunato meno bizzarro già che non guadagni mangia la banana mangia la banana perché poi questo gesto gli è costato gli è costato gli ha causato un bel guadagno quindi eh beh certo certo senti ma il libro è pieno di citazioni curiosità pettegolezzi modi di dire cioè quindi estrai tu a tua volontà ma sai il libro nasce da una scaletta dalla nostra scaletta del programma che oggi si chiama tutta salute titolo piuttosto generico che sostituisce il molto più pertinente e fortunato elisire perché l'elisire è la traduzione italiana di un termine arabo che sta per alik zir che vuol dire pietra filosofale la pietra filosofale come tutti sanno era e non è una congettura di tipo così fantasioso era proprio una credenza degli stregoni di un tempo che pretendevano di trovare una sostanza in grado di favorire la trasformazione di tutti i metalli in oro la metafora in agguato è una metafora di tipo simbolico straordinaria di trasformare tutto quello per gli oratori che dicevano in verità non è stato mai trovato l'elisire ne fa fede Donizzetti con l'elisire d'amore e i dulcamara che non smettono di funestare la pace dei mercati dei mercati rionali voglio dire considerando il mercato rionale più gigantesco quello del villaggio globale come tutti i villaggi ha il suo mercato rionale che sono i media o come si ostinano a sbagliare i miei amici i media che mi fa venire l'idea di un lassativo dice che hai preso due media sembra il nome di una medicina immodia quindi nella trasmissione mi permetto sul suggerimento dei miei colleghi nonché degli autori del programma di così vezzeggiare un po' la cultura classica e non solo con i racconti di quanto affine possa esservi con gli argomenti che abbiamo trattato naturalmente la ghiottoneria dei critici si avventa sull'emorroide per ragioni che posso capire però visto che tu le hai articolate per parti del corpo ti aiuto a ricordare alcuni passi per esempio sulla testa che facciamo sulla testa la testa naturalmente il primo capitolo la testa è sempre stata considerata nell'antichità come una specie di dislocazione generica non sapevano che il cervello fosse la macchina di tutto pensa anche al problema del cuore al problema del fegato le loro funzioni sono state azzardate come congetture come ipotesi piuttosto vaghe perché per esempio la funzione di pompa del cuore in quanto muscolo è stata studiata molto tardi la funzione del cervello come sede del pensiero dei sentimenti dell'amore della passione del coraggio per carità è stata bisogna aspettare il settecento quindi le congetture si sono avvicendate nella faticosissima strada che parte da da Ippocrate giusto per dire in realtà c'era il manoscritto di Ebers che è uno scritto egizio che si occupa moltissimo delle patologie e non dell'anatomia se tu pensi che per arrivare alla dissezione dei cadaveri si è dovuto aspettare il 1600 1700 era proibita non si poteva fare quindi si procedeva per congetture molte delle quali assolutamente fantasiose però qualche volta ci pigliavano per esempio sulla funzione renale ma la funzione renale aveva un epifenomeno spettacolare che è l'urina e i medici si sono avvicendati per tutti i secoli passati a fare diagnosi avendo a disposizione solo questo prezioso liquido che sul piano diagnostico era davvero prezioso se pensi alla mandragola di Machiavelli tu troverai parliamo del 1527 28 gli anni in cui debuttò con questa forse la commedia più bella del tardo rinascimento tu ti accorgerai che il finto medico come prima cosa chiede le urine della vittima di Lucrezia la vittima del triste raggiro e quindi perché loro le annusavano addirittura le assaggiavano sì perché il chirurgo il medico sentiva se fossero dolci in questo caso era diabete totale senza discussione d'altro canto però la constatazione empirica di qualche diciamo cerusico apprezzò il fatto che certi le formiche andavano soprattutto verso un rigagnolo piuttosto che un altro invece di un altro che era più zuccherino era pieno di zucchero era più zuccherino questo era il mondo della scienza sai Aristotele nell'etica nicomachea ricorda che la medicina non è una scienza e questo lascia interdetti i medici quando vado a tenere qualche relazione miserabile nei convegni medici devono accontentarsi delle mie modeste prestazioni perché loro mi guardano un po' è una tecnè loro dovrebbero sapere cos'è una tecnè la tecnè è un'arte ma è un'arte che mette il medico nella condizione di poter apprezzare valorizzare e usare molte discipline scientifiche e il medico che era un'altra cosa rispetto al cerusico il chirurgo il medico vero era uno che doveva sapere di botanica di chimica di alchimia di leggi fisiche quelle a disposizione dai presocratici in poi quindi era una faticata senti a proposito di urine indovina cosa sono andato a vedere per primo quando ho preso il libro in mano la prostata ecco no così perché ho aperto casualmente ed è arrivata la prostata non so bene perché però ho letto che ci sono arrivati tardi sulla prostata si non avevano colto la funzione ma sapevano che esistesse proprio ma se tu leggi Dante Alighieri ti accoggi rileggi la divina commedia in un canto del purgatore che io del 24 ma non voglio sbagliare c'è la discrezione della genetica tu ti accoggi che nel medioevo medioevo glorioso siamo nella prima metà del 1300 il 1321 quando si è congelato da questo mondo il collega Alighieri beh la concezione della genetica è qualcosa di scandalosamente primario lui pensa che la donna sia solamente il vaso cioè il terreno dove l'uomo semina e che latte materno altro non sia che sangue trattato da chissà quali organi interni pensa che cosa potesse conoscere del liquido seminale secondo la cultura di Dante che ti ricordo essere stato medico e speziale ma per ragioni puramente politica perché per fare politica ancorché nei guelfi bianchi soccombenti lui dovette iscriversi a una corporazione è chiaro che tra quelli dei pellami e quelli dei viaggiatori preferì i medici e speziali bene il collega Alighieri pensa che il liquido seminale lo chiami così collega nel senso della medicina è una battuta che apprezzano molti i miei amici lui pensa che il liquido seminale altro non sia che è un concentrato di sangue maschile maschile che va a trovare modo di svilupparsi nell'utero che sarebbe il vaso dei fiori quindi siamo nel 1300 non avanti Cristo il sospetto comincia a germinare molto più tardi e quindi quanto alla prostata la funzione di produzione dello sperma è molto tarda e quindi d'altro canto la considerano l'ipertrofia quasi tutti una malattia insopportabile e poco poco meno di una malattia perché è una normale decadimento e sì forma di invecchia fa parte dei guai della vecchiaia i maschi che non ne soffrono di ipertrofia prostatica sono una minoranza quasi risibile il fatto è questo che per parlare di vera condizione patologica i sintomi sono non narrabili in presenza di signore comunque le alzate notturne sono molto frequenti però tu vai a giustare il garage o metti al posto lo so sentito degli strani rumori sono andato a bere un bicchiere d'acqua e altre cose poi prendo la cosa magica e sparisce tutto senti nel libro ci sono tante curiosità per esempio Zeus soffriva di forti mal di testa Leonardo De Valinci di insonnia guarda quella è una favola geniale perché il mal di testa era incoercibile non ti racconto perché fanno orrore le pratiche chirurgiche a cui qualcuno infelice si assoggettava non ne sopravviveva quasi nessuno non sopravvivevano le pratiche chirurgiche che erano generalmente trapanazione del cranio come gli archeologi stanno dimostrare il fatto è questo che nella fantasia mitopoietica dei popoli diceva un grande pensatore per conto mio della letteratura latina tarda diceva queste cose non avvennero mai ne saranno mai queste cose queste cose consistono queste cose sono parlava del mito perché sono poi più tardi Levi-Strauss disse che era il mito germinava dall'interno di noi stessi dei popoli beh pensare a due circostanze che sono nel libro descritte la prima questa dell'emicrania incoercibile di Zeus che fu inventata Messiodo già era ne era a conoscenza fu inventata dagli antichissimi popoli come nascita dalla ragione complice alleata delle sventure umane e come nella 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 trazzazione anche nel libro la favola è bellissima a un certo punto Giove ha una un terribile emicrania non c'è verso degli passi e non potendo morire e beh era un po' spaventato fa chiamare Vulcano che si distrae lo faceva spesso come ben sanno Venere e Marte che si intrattenevano perché si chiamava Vulcano e si pregge spaccami la testa con l'ascia ma padre di tutti gli dei come potrei fare una cosa ti ordino di farlo e dà una bella accettata e spacca la testa di Giove da lì Balzas e testo letterale era squassando le armi d'oro e d'argento Atena che allora era Atenì cioè proprio la dea aveva questo nome sì tant'è vero con questo nome battezzerà poi la capitale dell'Attica quindi Balzò squassando le armi armi che erano al tempo stesso deposito di sapienza oltre che valore proprio offensivo avevano anche valore offensivo chi era lei lei era la dea della ragione generata dal cervello di Zeus non dice la favola se a Zeus sia passata l'emicrania ma da quello che ci racconta dopo è passata dalla testa l'altra favola sulla quale ancora dibattono beccai chirurghi e poeti è sapere come potevano i greci inventare la favola di Prometeo che si lascia divorare il fegato legato sul caucaso dalle catene del suo peccato che era quella di aver spalleggiato l'emancipazione dell'uomo perché Pimeteo era un coglione Prometeo invece il fratello più piccolo mentre Prometeo era un genio e aveva stretto alleanza con gli uomini porta la scintilla Lenin se lo ricordò quando dovete battezzare il suo giornale lo sa benissimo Fulvio ecco lì a un certo punto qual era il tormento terribile inventato da gente che aveva visto che poteva succedere mangiare il fegato di Prometeo non finisce lì alla Veneziana crudo perché l'avvoltoio o l'aquila più probabilmente gli avvoltoi lo mangiavano lo divoravano e il fegato ricresceva ora chiunque sape qualcosa di anatomia sa perfettamente che se si opera una persona e si porta via quattro quinti del fegato in pochi mesi questo ricresce lo avevano appurato come? non si sa proprio davvero non si sa perché per appurarlo perché non c'era nessun elemento scientifico alla base ma forse hanno visto evidentemente nei sacrifici degli animali una condizione analoga e hanno appurato peraltro fegato è parola che non ha alcuna etimologia credibile se non una perché si chiama fegato quando i greci lo chiamavano epas è lo stesso i latini da cui epatico perché all'epoca dei latini le oca del campidoglio erano nutrite a fichi il che rendeva le loro ugole molto più loquaci come tutti sanno soprattutto gli storici dell'antica Roma e soprattutto producevano un fegato magnificamente profumato per poterlo mangiare con i crack che non c'erano allora il ficatus si chiamava il fegato delle oche del campidoglio e nei processi etimologici che sono sempre affascinanti nella dizione italiana non l'hanno chiamato epa fegato era già patè era già patè siamo già al patè siamo già al patè e Totò direbbe il patè d'animo il patè d'animo famosa patè patè d'animo che voi ci abbinerei un Moish Antonio Moish Antonio Moish Antonio senti ma ma invece a proposito il colesterolo di Hemingway come lo vogliamo mettere beh se l'era per così dire andata a cercare avrebbe detto Andreotti ah no avrebbe detto anche il suo medico perché hai voglia di dire però la sua insistenza con gli alcoli e delle diete franca sai chi è che ha tenuto duro con due infarti e quattro collassi Churchill ah già giusto quello che tra l'altro si è presentato non so se a te erano a Yalta faccio confusione con la memoria due giorni dopo aver avuto il secondo infarto è stato tenuto in piedi con una forza di volontà più dei suoi medici tra champagne whisky e sigari e non si è fatto mancare niente e l'altro che invece ha patito le pene dell'inferno è stato Napoleone III che si presentò duole parlare di malattie ma si tratta di malattie che già passate in prescrizione perché noi combattiamo tranquillamente aveva una terribile calcolosi renale che tra l'altro gli impedì di vincere no perlomeno lui si scusò con questo di vincere a Sedan a Sedan proprio nel pieno della battaglia ebbe una tale colica che dicono i giornalisti dell'epoca pare abbia affrontato la fusileria nemica prussiana ambendo la morte da eroe tant'è che nella lettera che poi lui scrive all'imperatore re di Prusse dice maestà non essendo riuscito a cadere come avrei voluto per mano dei nemici mi affido la sua benevolenza e naturalmente lo mandarono in Inghilterra dove lo operarono e morì perché non era facilissimo gli inglesi non avevano tutto questo interesse a tenerlo come vedete come vedete lui non è un esperto di medicina è un pozzo di scienza di cultura che ha applicato alla medicina è solo passione e beh però ha la faccia della passione avrebbe detto sempre Totò visto che ormai l'abbiamo adottato alla faccia alla faccia senti sono tre minuti in più di quello che era il tuo tempo ma io potremmo andare avanti non so quanto volete che andiamo avanti andiamo avanti perché sinceramente ti ascolteremo però ci devi togliere una curiosità come diavolo ti è venuto di incrociare la medicina perché ma io ho sempre letto libri di medicina mi piaceva da ragazzino studiare lei più che studiare leggere e allora io quello ho fatto finché un giorno Locatelli che era il direttore di Rai 3 su istigazione di Lucia Restivo mi disse mi devi scrivere un format per la medicina in televisione la domenica sera in prima serata io pensai fosse un temerario volevo avvertire delle autorità ma invece aveva ragione lui io scrissi questo format ma non pensavo assolutamente io lavoravo in questo senso tu stai benissimo preparavo i format quando mi telefonò d'estate il vice direttore ti passo il direttore dice Michele è molto bello il tuo format però c'è un problema che come l'hai scritto lo puoi condurre solo tu siccome io soffrivo di una ipocondria esponenziale dice non ce la posso fare e lui dice ti do un'ottima ragione per accettare o fai questo non ti rinnovi il contratto e io ho trovato entusiasmante grande grande Michele Mirabella grazie di essere stato con noi e di aver concluso mirabilmente stai qua di aver concluso mirabilmente la stagione 2019 di Roma in Contra ci vediamo speriamo l'anno prossimo auguro a tutti arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.